Hanno esposto al sindaco Stefano Minerva il degrado, le difficoltà di transito su marciapiedi e strade, soprattutto per i disabili e le scarse condizioni igienico-sanitarie in cui versa Rivabella, frazione di Gallipoli. A denunciare le situazioni che stanno facendo diventare invivibile la località balneare salentina sono stati alcuni residenti i quali hanno messo nero su bianco le problematiche in una lettera inviata oltre che al primo cittadino anche al prefetto di Lecce, Luca Rotondi, e agli organi competenti. Tutto l'igiene, infatti noi chiediamo una maggiore sistemazione dei bidoni dell'immondizia messi secondo un criterio che diano un decoro al villaggio e inoltre la pulizia delle aiuole che sono molto trascurate e probabilmente all'interno delle aiuole ci sono anche delle carcasse di animali, oltre ad escrementi perché l'odore che ne viene fuori è veramente nauseabondo e le aiuole chiuse sono diventate delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Infatti è invivibile perché non ci si può neanche intrattenere in quanto c'è un cattivo odore e poi per terra ci sono i oleandri marciti. Una delegazione di residenti inoltre ha incontrato nella mattinata di martedì 3 settembre il sindaco Minerva un cordiale scambio di battute nel corso del quale i cittadini hanno presentato anche le firme dei residenti in allegato alla lettera. Lui ha preso visione della lettera e diciamo che ha sottolineato il fatto che alcuni interventi lui li aveva già fatti, in realtà ha messo i dossi all'ingresso di Rivabella e poi le luci. Per quanto riguarda la pulizia così come era stato chiesto durante quell'incontro che avevamo avuto due anni fa a Rivabella, la risistemazione delle strade non è affatto avvenuta ma lui si è preso l'impegno che si occuperà di questo e inoltre sistemerà le aiuole. Questo è l'impegno che si è preso e spero che questi impegni non vengano disattesi.